In un calcio tutto fiato e muscoli, come quello di oggi, a fare la differenza spesso e volentieri è la tenuta atletica dei giocatori. Aspetto fondamentale in cui, a recitare il ruolo di protagonista e la preparazione fisica, deve resentare la perfezione per arrivare senza intoppi al termine delle lunghe ed estenuanti stagioni tra campionato e coppe. Più si sale di categoria, più è fondamentale. Ma attenzione, la base, e quindi i più piccoli, rappresentano in termini di preparazione il capitolo più importante e complesso di questo mondo che fa degli allenamenti un valore aggiunto. Se non si sta al passo con le nuove metodologie, si rischia di limitare il percorso di crescita proprio dei giovani atleti. Un pensiero condiviso anche dal CT dell'Under 21 Luigi Di Biagio, ospite del convegno tecnico organizzato dall'AIPAC, l'Associazione Preparatori Atletici Sezione Calabria, sulle novità legate agli allenamenti fisici e tecnico-tattici nel settore giovanile. Non più esercitazioni esclusivamente a secco, come si faceva in passato, bensì disco verde a carichi di lavoro specifico sulla potenza metabolica e l'aumento dell'intensità accompagnato dalla palla. A fare da esempio all'interno del convegno i preparatori atletici Giovanni Saffioti e Domenico Borelli, gli uomini che quest'anno sembrano aver dato una marcia in più al Crotone, primo in classifica in Serie B, e squadra che sfianca gli avversari dimostrando proprio una condizione fisica dirompente. All'incontro, moderato da Andrea Ferragina, ha portato il proprio saluto il presidente del CR Calabria Savero Mirarchi, il quale ha sottolineato il grande contributo della nostra regione alla crescita del settore giovanile grazie ai notevoli investimenti sostenuti nel campo dell'impiantistica e della formazione.